Sai perché Gemitide si chiama così? E niente, praticamente c'era st'amico mio e un paro di mesi è stato che metteva Aiz alla fine di ogni parola, anche per dire andava a bere una birra, lui diceva birra Aiz. E il giorno disse Gemitide Aiz. E io gli ho detto oh, Gemitide Aiz è figo. E tra quel giorno poi me ci hanno chiamato tutti e quindi l'ho tenuto anche perché mi piace.